Sì, è un accordo storico per la città, ma io ritengo ben oltre la nostra città, firmato tra i rappresentanti del Governo nazionale e regionale della città di Napoli. Bonifica integrale, rigenerazione urbana, spiaggia pubblica, mare, lungomare, recupero della linea di costa, archeologia industriale, parco pubblico, edilizia, esproprio dei suoli privati, il progetto della città di Napoli. Quindi siamo contenti di aver difeso la città, di aver mantenuto gli impegni e aver trovato nel corso del tempo la cooperazione istituzionale di cui do atto al Governo nazionale e al Governo regionale.